Buonasera a tutti, io sono Pamela, ho 18 anni e vivo in provincia di Bari e faccio parte della fraternità di Santa Fara e oggi vorrei propormi di risparmiare dei soldi perché ho notato che non sempre riesco a spendere tutti i soldi che i miei genitori mi danno per uscire con i miei amici e quindi vorrei, più che tenerli per me che ho già tutto ciò di cui ho bisogno vorrei cercare di donarli in qualche modo a chi invece ha bisogno e ho pensato di metterli insieme quindi quando non riesco a accumulare un po' di più e fare la spesa per poterla donare a qualcuno che so che magari in quel momento l'ha incestita in realtà questa ovviamente è un'iniziativa che molte parrocchie propongono a chi le frequenta però questo vorrei farlo di mia iniziativa quindi non perché mi serve che la mia parrocchia mi chieda di farlo ma perché proprio mi sono resa conto che alla fine finisco per spendere quei soldi in cose che non mi servono realmente e siccome ci sono vorrei appunto usarli per qualcosa di più utile e che possa essere utile a qualcuno e niente, grazie grazie